Hello guys from Maestro Vitio Acopelli welcome back to my channel today in this really hot day here in California 110 degrees we're gonna make pizza neapolitan style al metro so pizza neapolitan style by mirror let's go see how to make it and please of course if you like this video don't forget subscribe and like the video I'm gonna speak a little bit in Italian in English ragazzi amici miei oggi vi faccio vedere come si fa la pizza al metro neapolitan style let's go all together ciao so first thing you need the dough one pull it this the other one not too much flour ragazzi non mettiamo tanta farina now we got the dough now let's go stretching andiamo a stendere so the first two three step is just to press with your finger and you measure you the thickness of the dough with your finger i primi step sono con le dita pressiamo la pasta e misuriamo l'importante è che è tutto uguale e non la facciamo sottile al centro ok this is the first step ok now that the first step is done we let it rest for about one minute and then after one minute we we make it a little bit more we make it work like this a little bit now it's time to get the peel so we get the peel, good if it's possible put a little bit of flour, a little bit then we get the dough, we set it up on top of the peel we make sure there's no holes after we let it rest for a couple of minutes a little bit more flour here then we turn it up we make it a little bit the side that we want to make it and then when we have the ingredients on top of the pizza it will be more easy to stretch so this is a good size ragazzi la facciamo riposare la giriamo aspettiamo un po' dopo dopo che ha riposato un po' possiamo mettere gli ingredienti ok in questo caso la facciamo tutta rossa facciamo una bella margarita very important guys is that you make it fast because if you make it slow it doesn't get stuck so we move it a little bit it's good it's good then we put the peso parmigiano parmigiano and the mozzarella then we put a little bit of olive oil parmigiano a little bit of in the pizza and that also we're gonna put a little bit of sausage ragazze potete condire la pizza come volete però sempre fatela veloce perché sennò la pizza si attacca un pochettino facciamo sicuro che non è attaccata diamo un pochettino come questo si è staccato con un pochettino un pochettino un pochettino un pochettino un pochettino un pochettino let's go in the oven guys when you leave it in the oven little bit little be careful ragazzi this voila we put it in the oven ragazzi l'abbiamo messa nel fondo ce l'abbiamo fatta let's make sure that the oven is a little bit lower temperature ragazzi la temperatura del forno deve essere un po più bassa perché se la temperatura è troppo calda che succede si brucia e non riuscirete a girare la pizza quindi quando vediamo che la crosta al lato sinistro è cotta prendiamo la pala normale e la pala che abbiamo usato per per stendere la pizza quindi and we'll lift it up a little bit voila now it's time to turn like this and we'll put it in the oven so we put it in the same spot stesso punto ragazzi perché se la portate in un punto differente non si cuoce don't forget the temperature is a little bit lower 700 degrees now it's time to check the bottom of the oven the bottom is really good go closer again lift it up so we get it we check a little bit more we want to crouch the pizza is ready ma la pizza è pronta ragazzi è tempo di servirla it's time to serve voila thank you so much guys hope you like this video please thumbs up yay it's time to rise the pizza is ready subscribe